Cosa state pensando guardandomi? Sono tanti i pregiudizi legati all'aspetto. Anche quello che avrei messo per venire qua poteva essere giudicato da pregiudizi. Con una gonna troppo corta sarei stato un'esibizionista, con un seno troppo esposto una poco di buono. E se poi avessi messo un tacco un'antifeminista. E se fossi venuta in tuta? Beh ma troppo trasandata. Ma i vestiti non definiscono chi siamo. Così come il peso non determina il nostro valore. Eppure quante volte questi pensieri hanno condizionato la nostra vita? Personalmente ho passato la vita a combattere il mio corpo. Perché troppo tanto rispetto agli standard della società. Come se serenità fosse collegata ad un peso. Come se chi ha un corpo ideale, giudicato bello e perfetto come magari attori o attrici, fosse immune da quei malesseri, dalla depressione che può portare anche alla morte. Il punto è che l'ossessione per l'aspetto fisico è una trappola sempre in qualunque taglia. Questo argomento riguarda tutti a prescindere dal genere. Ma utilizzerò il femminile perché voglio arrivare soprattutto alle donne che per troppo tempo non hanno avuto voce. Quante volte ci siamo sentite inadeguate, non abbastanza, proprio per una nostra caratteristica fisica. La ragazzina quando mi mettevo la crema e sentivo la mia pelle sotto alle mani, provavo disgusto. La stringevo e questa si faceva a buchi. La cellulite mi guardava come a dirmi, non me ne andrò mai ed è tutta colpa tua. Ed io pensavo, non merito niente, non merito amore, non riesco neanche ad avere il controllo su me stessa. Spoiler, le mie cosce non sono cambiate, è cambiato il mio approccio alle cose. Poi a 18 anni ho iniziato a fare la modella curvi e ho pensato, ah finalmente ho trovato il mio posto. Mi sarei sentita una figa. Nessuno avrebbe mai più detto frasi come bel viso, se solo perdessi un po' di peso. Beh, non è andata così. Anche quella esperienza mi ha aiutato a capire che non esiste qualcosa o qualcuno che può darti autostima. Siamo solo noi, passo dopo passo, a poter imparare a conoscerci e darcela. È facile? No, non è facile. Io stessa molte volte mi sono sentita una fallita, proprio perché cercavo di volermi più bene, ma non si riuscivo. Erano per quei no alle sfilate, perché avevo quei due centimetri di bacino in più. Era per il fidanzato del tempo che mi diceva, guarda, da quando hai preso dieci chili non sono più attratto da te. Tutto costantemente mi faceva capire che per essere accettabile dovevo essere più magra. Stavo dicendo che cercavo di prendermi cura di me, ma pensarci bene lo facevo sempre con un atteggiamento punitivo. E l'atteggiamento è qualcosa da non sottovalutare, perché la stessa azione fatta in un modo o in un altro può portare con sé un'energia totalmente differente. Fare sport, nutrirci, vestirci, metterci una crema. Può essere fatto con molto odio nei nostri confronti, volendo eliminare qualcosa, volendo nasconderci. Oppure può essere fatto lasciando andare questa negatività, dandoci cura ed amore. E vi assicuro che l'energia che arriva da lì non arriva in altri modi. Ad oggi ho imparato che non esistono imperfezioni, ma solo caratteristiche, soprattutto in un corpo umano. Ma prima mi combattevo e quando fai una guerra tra te e te, comunque vada, tu perdi. Pensiamo anche a come siamo abituati a pensare che magrezza corrisponda a bellezza e che bellezza corrisponda a felicità. Questa è una menzogna. Personalmente ho passato tutta la vita a perdere e prendere peso. Sono arrivata persino ad ammalarmi di bulimia, perché pensavo fosse l'unico modo rimasto per cercare di raggiungere quel peso ideale, minimo, di cui tutti parlavano così bene. Sembrava che avrebbe portato serenità, ma anche una volta raggiunto non ne ha portato nemmeno un briciolo. Questo perché appunto, come ho detto poco fa, magrezza non corrisponde a bellezza e bellezza non corrisponde a felicità. Questa è una delle cose più fasulle e pericolose che ci ha trasmesso la cultura della dieta, che ci vuole annichilire all'idea che solo da magri avremo un certo valore. Così distraendoci dal cercare le nostre reali competenze, le nostre capacità, distraendoci persino dal cercare il nostro vero benessere psicofisico. Pensiamo anche a quante volte al complimento e ho detto, ma come stai bene? Sei dimagrita? Abbiamo risposto con un grazie. Io ho iniziato a pensare che non fosse più un complimento da un po' di tempo. Era proprio durante una dieta molto drastica, dove oltre che a deperire stavo perdendo anche gioia vitale. E mi dicevo, ma come io? Io in questo momento non mi vedo bella, io sono triste, ossessionata, impaurita dal cibo. Io non sono felice. Mi chiedo allora, ma che cos'è la bellezza? Perché per me è qualcosa che va al di là delle mode passeggere di caratteristiche che vanno più o meno di moda. È un'energia che va oltre tempo, spazio, forme, colori. È armonia. Eppure ci fanno credere costantemente che solo con certe caratteristiche fisiche saremo adeguati. Perché lo fanno? E beh ragazzi, ma perché gli fa comodo? Stimolare il senso di inadeguatezza è uno dei più facili metodi di vendita. Quindi facciamoci caso se lo stanno utilizzando con noi e rispondiamo con un bel, no grazie, ho imparato a stare bene con me. La diffusione mediatica di diete restrittive, di un'idea di corpo perfetto, sono andati di pari passo all'aumento costante di disturbi alimentari. E questa è un'altra cosa che dovrebbe un attimo far preoccupare. Addirittura sono proprio le diete restrittive ad essere la prima causa di disturbi alimentari. Pensiamo che le statistiche dicono che su 100 persone 10 stanno passando o hanno passato un disturbo alimentare. L'età dell'anoressia è diminuita agli 8-9 anni. Questa cosa è allarmante. Sono nate nuove forme di ossessioni come quella al manzar sano. E mi direte, ma questo fa bene. Fa bene finché c'è equilibrio perché quando diventa un'ossessione anche essa è reputata un disturbo alimentare. E l'obesità poi? L'obesità continua a crescere. Ma sembra che alla fine l'unica cosa ci continuino a dire è, beh, chiudi la bocca, non mangiare più e vedrai che dimagrisci. Manca ancora totalmente un'educazione alimentare, un'educazione emotiva che ci aiuti a gestire le nostre emozioni, a conoscerle. E questa è una cosa che mi fa veramente arrabbiare. Perché ad oggi la grassofobia è ovunque. Grassofobia è la paura di ingrassare. Ma non solo. È anche quel sentirci in diritto, anche senza rendercene conto, di giudicare le persone grasse come pigre, senza forza di volontà, in un certo senso inferiori. Noi dobbiamo imparare a riconoscere il body shaming, la grassofobia, la diet culture, per dirgli no, per non assecondarli. Uno dei modi più belli in cui lo faccio è tramite la Body Positive Catwalk, l'associazione no profit che ho coerato con il mio compagno per dire no ai pregiudizi. Siamo in centinaia che ci raduniamo in piazze e diciamo spogliamoci dai pregiudizi. Uomini e donne di ogni età, taglia, etnia, orientamento sessuale, genere, eventuali deficit. Siamo tutti esseri umani e un essere umano non può essere catalogato dalle sue caratteristiche. Il rispetto deve essere a prescindere da esse. Mi direte, ma che belle parole, però come facciamo ad imparare ad apprezzare il nostro corpo soprattutto se l'abbiamo odiato per tanto tempo? Ok, vi do alcuni esercizi che a me sono stati utili. Il primo l'ho inventato proprio per rispondere a questa domanda. Immaginiamo un gattino, un cucciolotto, maltrattato, bisognoso di amore e di cure. Non ci viene voglia di dargliele a questo cucciolotto? Beh, quel cucciolotto sei tu, siamo noi, ci siamo fatti male per tanto tempo e adesso abbiamo bisogno di rimetterci in forza e di darci cure. Il secondo esercizio è un po' più complicato. Dobbiamo immaginarci in un altro corpo, sesso di un uomo o di una donna, un corpo più atletico o più formoso, una persona con disabilità. A me è molto utile perché mi fa pensare che se l'anima sarà serena, sarà serena in ogni corpo. Ora torniamo al nostro corpo e pensiamo, cosa posso fare io adesso, con le mie caratteristiche, con il mio essere, per essere sereno e magari per rendere sereno qualcun altro. Il terzo esercizio non l'ho inventato io ma è qualcosa che mi ha squarciato il petto. È l'oponopono, la preghiera dei popoli di Maui. Se avete la possibilità posizionatevi davanti a uno specchio, se no va bene anche il cellulare. Guardatevi negli occhi e cercate l'anima. Ora dedicatevi queste parole. Grazie, scusa, perdonami, ti amo. La prima volta che ho fatto questo esercizio sono scoppiata a piangere perché io in quello specchio avevo sempre cercato un'immagine che non era quella del mio corpo ma non avevo mai cercato la mia anima. Ok, questi sono alcuni esercizi che possono aiutarci a stare meglio con noi stessi ma ricordiamoci che abbiamo un compito, trasmettere questa consapevolezza anche agli altri. Accogliersi, accettarsi non significa mai arrendersi, anzi è l'energia che ci permette poi di fare tutto. Il nostro corpo non definisce che siamo, lasciamo che dalle ferite entri la luce. Noi siamo luce. Grazie.